Domenica 15 settembre a Centallo si terrà la terza edizione di Senza Ali, questo giro in moto dedicato ai diversamente abili, organizzato dall'Associazione Cinque Pieghe in collaborazione con l'Unione Sportiva Clicuneo. Di questo evento vogliamo parlarne con il presidente dell'Associazione, Marco Sperandio, che però tutti chiamano Meo. Bentrovato Meo! Ciao, ciao a tutti! Allora, un'iniziativa dedicata a ragazzi con disabilità che coinvolge i motociclisti come te e del resto, il cui ricavato andrà in beneficenza. Ecco, siamo curiosi di capire come si svolgerà questa giornata. La giornata partirà dalle due e mezza circa, da Centallo nella piazza Don Gerbaudo e ci sarà un momento di ritrovo dove ci conosceremo un po' dai ragazzi con nuovi motociclisti che parteciperanno all'evento e poi si partirà tutti insieme per fare un giro nelle campagne del paese. A rientro ci sarà una merenda offerta da tutti i negozi e da aziende della zona. C'è un momento di allegria, di festa, con della musica e piccole sorprese per i motociclisti e i ragazzi. Ecco, abbiamo detto questi motociclisti che porteranno così questi ragazzi a fare un giro. Chi vuole aderire, quindi venire lì e portare qualcuno a fare un giro, semplicemente cosa deve fare? Deve presentarsi quel giorno lì alle due, due e mezza in piazza e dire che vuole partecipare o portando i ragazzini oppure anche solo partecipando con la moto nella spilata e nel giro per fare gruppo. Quindi, insomma, una sorta di moto raduno dedicato a questi ragazzi dove divertirsi tutti insieme. Bravissima, bravissima. Dove si farà baldo, si parla, si ride, si fa delle foto. Una giornata in allegria tra amici e nuovi amici che si possono incontrare. Senti, Meo, questa è la terza edizione di Senza Ali. Come è nata questa idea tre anni fa? È nata da un signore del paese che lavora nel sociale. Ci ha fatto una proposta di fare una cosa del genere. Noi come associazione ne abbiamo parlato e abbiamo detto ci proviamo. Era una bella sfida e adesso siamo veramente soddisfatti perché è un'esperienza stupenda da provare. Beh, direi una sfida che avete assolutamente vinto alla grande. Io ti ringrazio per essere stato con noi oggi, per aver raccontato di questa bella iniziativa. Io invito tutti i motociclisti, ma non solo, che vogliono partecipare a questa iniziativa. L'appuntamento è per domenica 15 settembre a Centallo. A presto. Saluto tutti, vi ringrazio e vi aspetto domenica 15 settembre.